ciao a tutti benvenuti nel nostro studio io sono valentina vi porterò a fare un giro virtuale del nostro locale situato in un palazzo del 1300 venite pure qui troviamo i wedding awards che sono dei riconoscimenti rilasciati da matrimonio.com basati sulle recensioni dei nostri sposi ci muoviamo un po più avanti qui troviamo la sezione dedicata ai bambini premaman e famiglie questa è la zona accoglienza dove riceviamo le nostre coppie e nostre famiglie di qua troviamo il selfie mirror che è uno strumento di intrattenimento per il quale faremo un video dedicato e poi abbiamo l'esposizione dei nostri album con tantissime carte e materiali pregiati Grazie a tutti adesso vi portiamo a farvi vedere la nostra sala di posa venite pure siamo sempre felici di accogliere le coppie in uno dei nostri due studi ad Arezzo o a Firenze l'incontro ci permetterà di conoscerci di persona e di darvi la possibilità di toccare con mano e valutare voi stessi la qualità dei nostri album della nostra fotografia e video abbiamo a disposizione la sala di posa sia nello studio di Arezzo che in quello di Firenze il servizio in sala di posa può essere legato ad una sessione in esterna magari immersi nella natura e questi sono i nostri due studi di Arezzo e Firenze vi rinnovo l'invito a venirci a trovare in una delle due sedi quella di vostra preferenza in modo tale che potrete toccare voi stessi i materiali, le carte, le varie tipologie di album che abbiamo qui in studio e potremo incontrarci anche di persone, conoscerci quindi personalmente vi aspettiamo, a presto!